Nella tragicità del momento possiamo dirci soddisfatti per l'immediatezza delle misure di somma urgenza già messe in cantiere per la messa in sicurezza della zona franosa. Così il sindaco di chiesa in Valmalenco Renata Petrella, confortata dalla vicinanza delle istituzioni superiori, ieri contattata anche dal presidente della regione Fontana. Ma la Valmalenco si appresta a vivere un ferragosto dal clima mesto. La preoccupazione in questo momento è per coloro che devono arrivare a Chiareggio, perché non sapendo quando sarà possibile riaprire la strada, questa diciamo così è la principale preoccupazione, perché per coloro che sono rimasti a Chiareggio preoccupazioni francamente non ne abbiamo. Sono tutti al sicuro, hanno tutti un tetto, hanno del cibo, sono paradossalmente ancora in vacanza, hanno scelto di rimanere perché noi ieri abbiamo detto che chiunque avesse necessità o volontà di tornare a casa sarebbe stato riaccompagnato a casa. A Chiareggio ci sono circa attualmente 600 persone e sono tutti in perfetta sicurezza. Abbiamo lasciato sul posto 24 ore su 24 un presidio medico, c'è anche un presidio delle forze dell'ordine, per cui da quel punto di vista noi come amministratori siamo abbastanza tranquilli. Devo assolutamente complimentarmi con tutti quelli che sono intervenuti perché sono stati veramente all'altezza della situazione e oggi abbiamo messo in fila tutto quello che c'è da fare da qui in avanti. La provincia seguirà tutta la parte che riguarda la protezione civile, quindi il coordinamento dei vari gruppi di volontariato perché comunque abbiamo messo in fila un protocollo che prevederà in base ai bollettini che usciranno dalla regione dei presidi sul ponte in caso di bollettini gialli piuttosto che arancioni. Viviamo in un paese fragile, noi questo lo riconosciamo, ma queste situazioni chiaramente pongono sempre un po' delle problematiche e ci dobbiamo rendere conto se e come poi poterle risolvere. Credo che negli anni abbiamo fatto veramente tanto, faremo ancora di più tutto quello che è possibile, ma tante volte andare contro natura è veramente impossibile e quello che è successo oggi è stato proprio una questione devastante veramente.